La musica era parte integrante della paideia greca, cioè dell'educazione dei giovani. La paideia infatti era divisa essenzialmente in due parti. C'era la gymnastiké, che comprendeva tutte le attività legate al corpo e alla fisicità, dunque per esempio l'atletica, e c'era poi anche la musiché, che comprendeva tutte quelle attività che erano legate alle muse, dunque tutto ciò che oggi chiameremmo un'attività intellettuale. Un vecchio detto dice che musica e poesia nacquero sorelle. Questo detto rende molto bene l'idea che i greci avevano della musica, che non era un'arte indipendente, ma un'attività strettamente legata alla parola, strettamente legata per esempio anche alla poesia, e dunque in generale al logos, che è anche idea, ragione.